dopo il viaggio del re in Albania nel giugno del 41 bisognerà aspettare un anno e mezzo fino al gennaio del 43 perché l'istituto luce si decida a riprendere di nuovo con una certa larghezza l'immagine del re si teme uno sbarco alleato si esaminano le possibili linee di difesa a El Alamein le truppe dell'asse sono state sconfitte in Marocco e in Algeria sono arrivati gli americani in Russia i sovietici sono all'offensiva le città italiane vengono devastate dai bombardamenti la guerra è perduta comincia l'eclissi di Mussolini gli italiani ricominciano a guardare verso il Quirinale nella sconfitta il re torna ad avere un popolo e il popolo un re sarà un incontro breve grazie a tutti